Io dicevo prima in commento con Massimo e Fabio da studio, proverò a chiedere al mister se è d'accordo che per tanti aspetti forse è la miglior prova stagionale. No, non mi trovo d'accordo. No, che bello. Nel senso che è stata una delle migliori prove secondo me nel primo tempo. Nel secondo tempo qualcosina potevamo fare di meglio ma sono a volte fin troppo esigente, lo so, e quindi credo che debba essere soddisfatto in generale della prova. Nel senso che nel primo tempo sapevamo le difficoltà di questa squadra, una squadra compatta e c'era il rischio di avere un po' di frenesia e di giocare magari dentro il campo dove loro ti aspettavano e subire le ripartenze. Invece con la giusta pazienza, forse a volte anche un po' troppa, soprattutto nella prima costruzione con i difensori eravamo un po' più lenti, però la squadra ha dimostrato pazienza e soprattutto intelligenza tattica perché ha scardinato con movimenti cortolunghi che avevamo provato ieri di Desogus o di Cuppone, anche se c'era poco spazio dietro la loro linea, di lavorare nello spazio che ci concedevano. Sono stati bravi, hanno creato 4-5 presupposti, lo stesso Lescano si è divorato un gol su un cross, quindi abbiamo fatto secondo me un buonissimo primo tempo, intelligente e razionale. Secondo tempo magari abbiamo concesso, ma questo è, credo, inevitabile perché qualunque tipo di partita, finora ne abbiamo l'esempio, tutte le partite che abbiamo giocato, salvo forse, no, ma anche a Foggia c'è stato un momento del primo tempo, cioè ci sono momenti in una partita dove l'avversario comunque riesce ad avere il predominio e se tu non sei in grado di chiuderla o di capitalizzare le occasioni che crei al momento giusto rischi di soffrire e poi di magari di rimpiangere queste occasioni come è successo in altre partite. Io volevo chiederle, insomma, Crescenzi Milani, mentiva quando diceva che aveva solo 40 minuti di autonomia, Crescenzi ha detto sono un po' sorpreso anch'io. No, devo dire che mi ha sorpreso, io pensavo che potesse reggere un tempo e qualcosina dall'alto della sua esperienza, quando un giocatore è così sa tenere il campo sicuramente in maniera più omogenea e corretta rispetto a un giovane che magari esprime tutto quello che è il suo serbatoio in poco tempo e poi magari arranca. Invece è stato bravissimo e visto come è andata la partita mi ha segnalato solo alla fine che aveva qualche problemino al polpaggio. Se lo poteva permettere? Sì, 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 no, no, è stato veramente da elogiare. Facciamo una domanda da studio per il tecnico Colombo che poi deve salutarci. Da collega a collega, quindi Fabio Ferraresi. No, mister, al di là dei complimenti che ho fatto prima pure al presidente, ribadisco adesso a lei, io credo che oggi il Cerignola abbia fatto fatica facendo questo sistema di gioco nelle prime scalate. È vero che, come ha detto giustamente lei dall'alto della sua obiettività, abbiamo mosso un po' male la palla, un po' lento, in alcune circostanze nel primo tempo, però loro con i quinti facevano fatica ad arrivare sui nostri terzini e quindi con i terzi di difesa ad andare uomo contro uomo con i nostri terzi attaccanti. E poi ci ha permesso di fare bene sulle catene ed è stata la nostra forza, questo è quello che ho visto io. Sì, infatti io sono particolarmente contento proprio perché siamo stati intelligenti dal punto di vista della gestione della palla. Una squadra chiusa, con questo tipo di sistema di gioco molte altre volte abbiamo forzato la palla centralmente sulla punta. Oggi invece avevamo l'obiettivo di spostare la squadra avversaria sul lato e poi, in teoria, velocemente andare sull'altra per creare contro il quinto o eventualmente contro quinto e mezzala delle superiorità numeriche con la nostra mezzala, l'esterno che doveva stare largo e la sovrapposizione del terzino. E su questo noi abbiamo cercato appunto di attirare da un lato, dal lato forte e andare sul lato debole con la giusta pazienza e con la giusta qualità. Perché poi devi avere estremamente qualità nel mettere palla, ripeto, in uno spazio dietro la linea difensiva che era quella dei 16 metri. Quindi quando hai Palmiero, Mora e altri giocatori che sono in grado sul movimento degli attaccanti o dei centrocampisti o dei terzini di metterti la palla giusta diventa tutto più semplice. Noi salutiamo il tecnico Colombo, gli metto un po' di pressione, Max, 20 secondi perché voglio dire, Mora ha vinto due campionati di B da centrocampista, Aloy la C la vinta da centrocampista, Palmiero la C la vinta, ha un centrocampo che sa vincere. E gli altri? Sono solo tre, quindi... Il centrocampo. Vabbè, ok, speriamo che mi facciano vincere qualcosa anche a me. Vabbè! Vabbè!